E dopo? Che succede? Prima facciamo saltare il carro col polvere di sparo, poi dopo attendiamo. No, dico dopo. Dopo quanto? Dopo che abbiamo salvato la Francia. Magari ci danno un altro medaliere, una... Dopo ci dimenticheranno di nuovo. Ma io adesso sono arrivati a 170 ammazzamenti, quando lo trovo un convento che mi prende. Noi abbiamo rinunciato alle nostre vite per essere moschettieri. Ci hanno fatto credere di essere dei supereroi e poi ci dimenticano ogni volta. Io però a voi non vi dimentico. Io non vi ho mai dimenticato. Io a casa ho tre tacchini che si chiamano Atos, Anamise e D'Artagnan. E da 30 anni io parlo con tre tacchini che si chiamano così. Per non sentire la vostra mancanza io mi son messo tre tacchini dentro casa e ci parlo. Io ci faccio delle belle ghiacchierate con i tre tacchini. Atos, Anamise, vieni qua, come va, come stai? Io parlo con tre tacchini da 30 anni! Non ci pensare, Stavrosani, i tacchini adesso! Portos parla con tre tacchini! Non ci pensare, scusa sti tacchini, lascia stare. Guarda, tu hai proprio un cuore nobile a questa cosa del triste tacchino mia. Sei proprio comomente. Ehi! Oh! 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 Ha robito il re!